Via libera ai mercatini rionali, ma solo agroalimentari, sì anche al jogging all'aperto. Con l'ordinanza numero 45, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dispone dal lunedì il ripristino delle aree mercatali. Inoltre sarà possibile fare sport individuale su lungomare, nelle ville, nei giardini e nei parchi pubblici. Non ci sono limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività se c'è rischio di assembramento. Il governatore De Luca, nel suo consueto appuntamento, fa il punto della situazione sanitaria in Campania. Non mancando di ironia, ovviamente, le stoccate sono dirette chiaramente al leader della Lega, Matteo Salvini. Voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud. Ha detto che c'è una regione del Nord che è l'unica che ha fatto iniziative per i fitti. Non voglio fare nomi, diciamo, è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato. Occhiali color pannolino di bimbo, per intenderci. Ed è immediata la risposta del leader della Lega. Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi. Se De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali, confesso che come milioni di italiani ho problemi di vista. L'attacco al governatore dopo la diretta Facebook di ieri arrivano anche dal capogruppo regionale dei 5 Stelle, Valeria Ciarambino. De Luca dimentica i problemi della nostra sanità, dice. Sa bene, ad esempio, che per fare una mammografia bisogna aspettare anche un anno.